Bella a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video fino a staccarlo con il giocatore Scusa, mi dispiace perché sono tanto contento che oggi facciamo degli errori che fanno i noob su Minecraft E guarda la torre, una torre? Sì lo so, ma ora non c'entra Allora, e la cosa brutta è che non ci interessa la torre Aspetta, dove è che la torre? Dove l'hai vista? È lì, un po' a destra, a destra Scusate, ho mostrato un ottimo il GOS 1000 È un po' difficile Ho volato perché... Eccola Eccola! Che troppo bella Non importa, ora non ci interessa Degli errori che fanno? Vabbè, comunque iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non l'avete già fatto E' questo che volevo E mettete mi piace Allora, brava Allora, 10 errori? Eh, degli errori, non 10? Perché possiamo farne anche uno Eh... Primo errore Scenirà il volo? Ok, bravo Primo errore Mai scavarsi a tre piedi Se no trovi la lava Cioè... Tu pensi Che trovi qualcosa Invece A un certo punto Terra A un certo punto Troverai la lava O la bedrock La bedrock La bedrock Mi sa che a questo punto troviamo la bedrock Non troviamo la lava Corbone Corbone Da scuola Justin Ti saluto E vorrei Tanto Che Lunedì ti trovo a scuola Eh, dalla scuola Giovanni Acerno Bravo Anche lui lo conosce Eh no perché Giovanni Acerno Che È il dietro del mio banco Capite ragazzi? E questo è il senso E Emanuele Baldini Uno dei miei migliori amici Tommaso E per ultimo Tommaso Cucchi Ciao Ragazzi Iscrivetevi al canale E suonate la campanella No per loro quattro Ah Attevate la campanella Non suonate Così riceverete È vero perché Sì riceverete tutte le sue notifiche Allora ragazzi Questo è il primo errore Secondo errore Se voi trovate un diamante Facciamo una prova Con l'onca No scherzo Allora Se voi trovate un diamante in profondità Non dentro qua Ho sbagliato l'inizione Allora Intendo dire Che se voi trovate un diamante in fondo Ora io ce la La cosa Allora Trovate un diamante Trovate un diamante Il diamante Sotto il diamante Ci sarà la lava Dobbiamo mettere un diamante Questo sarebbe sfortunato Questo sarebbe sfortunato Ma può capitare Ma non può capitare Il 50 Il 10% che capita Diamante Ho fatto la lava E la lava E lava Se tu magari Trovi Del diamante Non romperlo mai Non romperlo mai Non romperlo mai Con le mani O con il piccone di ferro O con il piccone di pietra Con il piccone di oro E il piccone di ferro Potrei distruggerlo Allora Allora E ho sbagliato Mettiamo Il blocco di diamante Il blocco di diamante La lava La lava La lava La lava È rischioso È rischioso La lava E poi Sotto il blocco di diamante Sopra Sopra il blocco di diamante Qua Trovate un bellissimo diamante E dite Wow Lo spacco Perché sono Già E sarebbe Sono morto Almeno che Io non ho portato Di mano Un secchio di lava C'è di acqua Almeno Il blocco di diamante Allora ragazzi Prossima cosa Che vi voglio dire Queste erano Le due cose Peggio Le tre cose Perché vi ho detto Anche quella del piccone Ovviamente ragazzi Ora E Una challenge Il mio amico Andrea Mi dovrà Dire Quello che devo fare Ok E io mi metto In sopravvivenza Ok Però prima Scegli dal buro Allora Intanto Vado un attimo Su Impostazioni Mettiamo Sopravvivenza Ragazzi Perché ho creativa Però ovviamente Mettere questo Allora Andre Amico Dimmi Cosa devo fare Ho 64 Di avanti Suicidati Con la lava No No Dai Così Mi perdo Subito Ma che cattivo Che è Allora Vai a scovare Quel carbone Che ho visto Sulla montagnetta Davanti a te Quel carbone Grazie Faccio un piccone E vai a scovare Ok Andrea mi deve dare Le Coordinate No Le coordinate Più meno coordinate Lui mi deve dire Dove sono Dove Cosa devo fare Capito Ragazzi No Devi dirmi qualcosa Che è brutto Che devo fare Capito Ok Succidarti Con l'acqua Che ti trovi Davanti Quindi Perdi tutto No Dai Con la lava Era meglio Ok Mettiti la lava Prova Perdi il diamante Vabbè Eh Ah E ti devi andare A riprendere Nell'acqua Devi andare A riprendere Vite Nell'acqua Vado Ai No 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 Il diamante è ancora vivo Il diamante è ancora vivo Benissimo Qualcosa che brutto Ti ho detto Brutto Ok Fai una Pila Prendi O magari cadere Da una montagna No Fai una pila Al massimo Dei blocchi Tu vuoi dire Tu vuoi dire che Ti butterai Da lì Si Ciao Allora E prima cosa Almeno Dalle nuvole Ci metterò anni A prendere 265 blocchi Perché Chi non lo sa Tutto Minecraft Cioè Di altezza Al massimo Sono 265 Blocchi Ci metterò 800 anni A prenderli No Io l'ho detto Solo fino Alle nuvole Poi Vabbè Grazie Puoi usare Anche Lene Grazie Io non sono Io che Ho deciso L'ho deciso Perché Un Alcuni Mi dicono Justin Il mio amico No Ho sbagliato Non è Justin Non mi ricordo Chi Però mi ha detto No Mi ha detto Che No Mi ha detto Anno Che Oddio Chi è sto qua Chi è Oh Chi sono Sono due tizi Che sono in droghi Nel mio mondo Perché Sono venuti da me Uè Quella tizio Come Muori Tu muori Muori Oh Come Dammi tutto quello che hai Dammi tutto quello che hai Dammi tutto quello che hai Sono già morto Mi la lavo una volta Scappa Ma Fate Amicizia No 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 Non Perché Come Ti vuole sotterrare No No Ti sotterra Ti sotterra Ti sotterra No 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 Dai Immuniti No No Lei va alla vita tizio no 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 i mandandai dal dottesetti come sono un drach in ea mio mondo chi è mandati e che le ha vattentati sono hacker muono lui no filo fermo fermo non sono hacker nei mondi si può ma come hanno fatto capire chi mi ha muovi no posso dire pace 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 no pace no pace Pace ti ho detto, pace ti ho detto, pace, 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 muori, non uccidermi, no 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 io sono morto, io sono morto, addio, si spiegami intanto che io vado, e poi ti può capitare che se metti contemporaneamente il mondo, se metti contemporaneamente il mondo, no 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 perché ti pica, va bene, comunque e vi trovate nel mondo gigantesco di Minecraft, beh sì non sono hacker però potrebbero esserlo, no dai almeno tu mi puoi fare, Qua c'è una spada di lei Io me ne vado, io me ne vado, basta Mi avete fatto stancare, io li odio Chiunque sono io io li odio, io li odio, basta Ciao, ciao, basta Mi sono preso anche i suoi semi di grano Tiè, no, 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 signore No, signore, no, signore Oh, signore, oh, signore No, 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 non si può, non si può Non ci vuole No, fatemi stare Tranquillo, grazie Non mi piace Magari sono dei tuoi iscritti Che ti hanno perseguitato Hacker che sono entrati nel tuo mondo Allora, signori, oh, grazie Cosa? Cosa lo lascio Grazie Io sono il vostro amico, ciao Non vi chiedi Io li odio Iscritti, uscite dal mio canale Vi odio, uscite dal mio canale Siete iscritti Oddio Nel mondo dei... Sai che potrebbero essere sul serio degli altri? Allora, io li uccido Prendo quattro Ma non è sicuro Vado su quattro? No, non è sicuro Non è sicuro, eh Chiunque sia che mi sta piccando No, Oliver Tu che sei? Ehm... Non so chi sei Tu sei il nemico, vero? Eh, lui si No, no Non mi vuole bene 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 Mi odiano Mi odiano Sai cosa sarebbe una buona idea? Se ti odiano Basta che muori Non so, spero da caso Non so, spero da caso Ora c'è un cuore Ora però non li troverai più Sono là Scappa? No, io mi sono Io giuro Ora mi costruisco una spada No, ora No No, non è sicuro che ti odio Scappa, 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 scappa Scappa No, io ti odio Io ti odio Io ti odio Esci dal mondo Qualunche cosa sia tu sto tizio Devi morire Esci dal mondo Spacca osso Ecco perché sei così odioso Perché Ti odio Tu sei un odioso Ti odio Perché ti spacca le osso È crudele Sei crudele Crudele del tuo amico schedro Perché hai spaccato le osse No Sai cosa potevi fare? No, no, no No, no, no Sai cosa potevi fare? Con tutto quel diamante Ti potevi fare Non faccio niente Non faccio Donno Sto vocês facci tu ah 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 vuole fare guerra? fai guerra a mammi nude no mammi uccidono ah idea idea ho un'idea geniale muori ha ucciso spaccolose le leggano le mani ah no 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 ma ragazzi non l'abbiamo organizzato no ve lo giuro non li conosco questi tizzi è andato casuale io non li conosco casuale non abbiamo organizzato oh bravo perché hai fatto salva ora io rientro e vado in creativa no così li citi per bene ti fai una bella spada di diamante anzi mi bruci dove sono? sono vicini ma mettiti in creativa allora ora mi metto in creativa li cerco eh 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 dove siete? cercami la scritta non è che sono uscita anche la loro casa non è che se non è che sono uscita io sono uscita anche la loro casa mi so si casa una casa un po' dai dove sono volevo spaccargli la ossa allora cosa succede almeno non ce li hai più di mezzo no ok allora io sono uscito aspetta se sono rientrati avrei riuscito dai voglio che rientri non voglio invitar qualcuno se siete iscritti rientrate se avete coraggio anche se non è una una diretta ragazzi io mi sto chiedendo come hanno fatto entrare sono hacker no non sarebbero hacker perché sennò gli hacker si mettono sempre in creativa ragazzi è stato casuale io qualunque cosa sia quello io vado facciamo costruzioni ragazzi andiamo subito su costruzioni ma arrivo subito voglio solo vedere cosa sennò ok io esco ragazzi da sto mondo ma posso anche cancellare ok così quei tizi non entrano più io mi sono sfogato vabbè ragazzi ci sei sfogato ad uccidere eccolo sono crudelli ora andiamo su server ragazzi e poi all'ultimo momento così ci sono venute le mani buggate come si teneva un arco come si teneva un arco ragazzi io non so cosa mettermi questo facciamo non facciamo costruzioni no online si o mai però non costruzioni istruzioni totale se c'erano ancora li strangolavo ma che tristezza che se ne sono andati voglio vedere che capavano lo sai potevi bruciare la foresta così prima o poi ma se non vedo le scritte se ne sono andati si ma quando rientreranno in quel mondo dove erano tutto bruciati andiamo subito facciamo sai cosa faccio faccio il murder mystery no 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 cosa ah ok eri infilato in il robot non so se vuole ma non so dai faccio un murder ti do i consigli se vedo che c'hanno lì no ma cos'è ah la spada c'hanno e cosa facciamo faccio faccio questa cos'è team teams da dodici venga due team da dodici cioè ventiquattro persone come sei un poeta no ecco ragazzi guardati quanti siamo due team mhm ventiquattro non siamo tanti guarda che figa skin tranne tranne questa viola mi sta malissimo io questo suono incredibile questo suono no assomigli a quello che c'era nel mio mondo non venire da me ma non è il mio è rosso eh lo so ma c'è solo mio perché è piccolo guardagli la faccia guardagli la faccia guardami vai te guardami vai te no io sto sto comprando dei soldini con con tutti questi pupini e e sono un cocchini e faccio i malini e faccio manichini e sono un campionini ecco i minuti non andano ad aumentare quelli in lotti ansied70 as metal qual è la cosa sia non mi faccia niente quanto sordino e non mi faccio niente o il mare d'opper niente 21 tsshhh mi hai roba da strupato la canzone faccio voi oggi si rita molosca e non mi faccio e non mi faccio man da io mi faccio lagargin da mis, da mis, anni, bad boss, dus, manikin, 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 37 mene vado, mene vado, mene vado, mene vado, mene vado, ya, 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 ora ce ne ho molti di più, 44 vai a quello di me, no al naso come, al naso come, al naso come di quello che c'era nel mio mondo, se tu, ah no voleva nascondere il tizio weapons, stone oh ce l'hai, ce l'hai, cosa? la spada, lo so ho dovuto prendermi, prendo anche un ascia e un piccone vado a prendermi anche un blocco, anche dei blocchi basta figlio, ti bastano si no, me l'hanno, no, non distrutto vai prendi i lingotti, ti servono, ce ne sono 14 24, 25 abbiamo un bel po' di oh uccidilo vuoi prendere quei lingotti voi siete la squadra red no, no, non può essere distrutto no, non può essere distrutto no, non dirmi che è stato distrutto ah no, è live andate a distruggere quell'avversario allora andiamo a costruire delle oddio ragazzi, io sui punti su no no, hai perso tutto hai perso tutto non preoccuparti i lingotti c'è io mi sembra no, devi riprenderli no, dai io non ho pure zero no, 52 zero proprio zero zero e arrivo a 52 un diamanti un diamante venga, nel pari, prendi non posso quanto costa? hanno tre no uomo 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 Oh, gravi, prendi quell'ascia, uccidi quel tizio che ti è ucciso prima te, te lo dico che ti è ucciso prima te, ahimio, usa l'ascia, tanti, 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 arriva un nemico, ah no è rossa, no è mio amico, prendi l'indotto, perché? è buio, oh, dai, ma sono dei, pazzolli, non mi interessa se siete ai miei iscritti, capito? che cattivo, avevo un emerald, potevo prendermi qualsiasi, no, no, io me ne vado, io me ne vado, basta, 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 chiunque sono, l'odio quel tizio, ah adesso, sembra molto che, chi c'è di l'altra squadra, no, 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 stanno arrivando che sto cercando, il divano, ora lo butto giù, ora lo butto giù, ora lo butto giù, io sono, io sono, ora sono, basta, oh, l'hanno buttato giù, grandi, 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 no, vabbè, è una zero per ora vedo come è una zero è qualcosa oddio prende una spada in diamante eh? una spada in diamante non posso le spade in diamante costano 5 emeralds e ho? io ho solo ma come fai a prendere i diamanti? sono fuori qua non ci sono sono là fuori vedi? c'è il generatore di diamanti là fuori i diamanti o i emeralds? i diamanti sono meno preziosi quindi le mettono più vicini uccidere col tizio qualunque cosa sia guarda il tizio uccidere no 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 non c'è Alex il tizio è Alexoso Alexoso no 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 sto vedo sto vedo sto vedo troppo finisce perché mi sto incavolando troppo io mi sto io tra un po' no 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 sto vedo sto vedo sto vedo sto vedo io mi accendo io ci do io ci do sto vedo io ci do se posso se uccido Alex è un hacker no voglio provare ad ucciderlo qualunque cosa sia si vuole ucciderlo l'hanno ucciso prima però è caduto no l'hanno spinto ok ora l'unica cosa da fare è prendermi una una ora l'uccido ora l'uccido io mi sento che posso ucciderlo vado vado basta mi sento forte che posso ucciderlo ciao no no ora mi uccide no 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 ora io me ne vado basta 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 scrivo in chat ora scrivo in chat basta basta ora si io scrivo in chat che odio odio Alex basta io lo scrivo in chat lo scrivo in chat fatto mandato ti uccide è Alex non importa ho scritto odio Alex hai perso non mi interessa ora 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 si crepa Alex giuro che finisce il video ora se ora se Alex ora se Alex giuro uccido qualcun altro finisce il video basta ho scritto odio Alex io lo odio veramente basta Alex ti odio ti odio è lui è lui per fortuna l'ho scritto in chat l'ho scritto in chat si l'ho visto si l'ho visto non so questa è una cosa grandissima che continua ad ucciderci ragazzi prima che cerchiamo di uccidere quella Alex anzi no il video finisce qui mi dispiace e perché basta il video finisce qua ciao ci vediamo nel prossimo video mettete mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e distruggete il quella Alex ecco se lo trovate nelle vostre nelle vostre nelle vostre build battle uccidetelo subito chi? allora io vorrei che i miei iscritti li scrivano nei commenti se l'hanno trovato e dovete shottarlo se l'avete shottato scrivetemi nei commenti un coltellino se no scrivete un teschio ok? consigliate dei nuovi video da fare il prossimo saranno le votazioni le prossime votazioni saranno la prima votazione è costrucce Nintendo di video giochi la prima cosa che vi dico è Roblox la seconda è Minecraft e Luigi e Luigi's Mansion se no se magari ancora un pochino possiamo fare slider io ragazzi io come vi ho appena detto spaccate il pollice dell'ax il pollice dei like e ciao 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 ciao